Ben tornati ragazzuoli al nuovo episodio di Resident Evil 7, io sono Alemas, io sono Mia e vediamo la cassetta. Mia. Oh shit, sono mia. Alan Wake. Ma questo è Logan. Logan. Mi ha infettato nell'attacco? Oh no. What? Ah quindi qua sta già andando a puttana. In effetti blinki di rosso. E' vero. Ma è utilissimo quello smartwatch. Che lei è la mammina. Ah, si sveglia che cosa è questa boccetta allora. Mia, che hai nascosto. Ma fa tutto questo orologio, è incredibile. Hai un mitra. Buono, dai. Divisione operazioni speciali. Direttore Ale. Custode Mia Winter. Stando alle informazioni presenti sembrerebbe che Evelyn sia ad alto rischio di cattura da parte di organizzazioni rivali se restasse ancora nella sopposizione attuale. Di conseguenza i vostri ordini sono di trasferire il soggetto nella nostra filiale in America centrale e di tenerlo al sicuro fino all'ulteriore comunicazione. Durante il trasferimento è di assoluta importanza osservare i seguenti protocolli. Assumere il ruolo di genitori di Evelyn per evitare qualsiasi sospetto. Monitorare i parametri vitali di Evelyn tramite il Genome Codex che vi è stato fornito. Se l'operazione dovrebbe essere compromessa eliminare Evelyn. Mortacci 2. Oh, oh shit. E quindi Mia, anzi direi quella puttana di Mia. Altro che babysitter Mortacci 2. Ah, ti dice dove sta Mia. Cioè è mia Evelyn. La distanza dell'obiettivo. Grazie gioco. No, si sta allontanando. Lockpick. Chiusura prendi. Un'altra. Piano di questi cosi. Holy shit. Ah, è vomito questo. Ah, era questo che aveva cioccato. È incredibile questo smartwatch, io continuo a dirlo. Oh, grazie. Siamo vedendo un po' più per i miei amici, se questo si tratta. Allora, noi dobbiamo trovare l'ho, e velocemente. Questo è un'altra. Sono parassiti del suo corpo. Operatori. Due non male, dai. Cosa è capito qualcosa? Ah. Mostra. Un micromancer. No, come è che non si è micromancer, cosa? Un micromorfo. Un micomorfo. Posso andare? Io vado al secondo piano. Ma sei al secondo piano, devi andare... Cioè, c'è due F. Salve micomorfo, non è che ti risvelli. Ti rispono la testa. Un po' di T-Bagging. Ci sta sempre bene. S2. Che è il secondo sotterraneo. Una sala macchina. Che posto è? Ah, salve. Insomma, alla fine... Mi è più cazzuta di Ethan. Ethan non ce l'ha mai avuto. Dai, mia è raddestrata, cazzo. Eh, a quanto pare. Aha, erba. Aha, proiettili. Cioè, mia c'è il cazzo di addestramento militare, a quanto pare, perché... Probabilmente adesso lo potrei scoprire, perché ci saranno... Ecco lì. Normalissimo. Come scendi? Mi fai vedere come... C'è una scala? Oh! No, non è scala. Dai, c'è una scala. Ah, è morto diretto. Ah, è la prima volta che vedo che muoiono senza chi ha disperato la testa. Oh! E io... Solo che stessi sono da un sacco di munizioni. Però le si trovano bene o male, quindi... È scomparso. È morto. È scomparso il corpo. Sì, non c'è. Ok. Si sta avvicinando. Buono. Eccoli. Però... Ci sono altre serrature così. Ce n'erano un fottio così. Molte più di tre. E io... E io... Andrò a prendere. E io sento i tumori. I tumori. Uuuu... Stavo qua dentro? Sì. Ok. Eh, fammi... TAC! Ah, proprio... No, ma... Ma perché è uscito fuori lo schifo? Oh, quant'è roba. Erba, proiettili. Scusa, intanto... Cosa devi fare qua? Facci dopo, no? Non dici, vabbè, intanto... Eh, piuttosto che rifasse tutta la strada indietro, tanto... Beh, perché magari... Al mass, l'alimentazione si spegne dopo 5 minuti. Sì, mi si sta per spingere il televisore. Non più. Non è esaltante. C'è quel senso di adrenalina. Oh mio Dio, ho 5 minuti e poi finisce il mondo. Ecco il braccio. Ho voluto dire un cazzotto alla porca. Pensavo fosse una sta... No, io non sono. No. Veni qui, esci fuori, cara bambina. Che ti infillo la gente corosino nelle narici. Oh, sì. Oh, 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 il numero ha sminchiato male. Ah, è vero sta... Che fastidio, perché me l'ha fatto vedere? Adesso mi dà fastidio per sempre questa cosa. Ma scusate, ti ho parlato, ma non ce l'ho. A questa stanza cosa è servita, niente. Eccola. No! Ti ha chiuso? No. Non ti ha chiuso. Se sta morendo male. Bello che all'inizio lui ti ha detto Per me è finita, sono stato infettato. E te pure che gli chiedi Ma stai bene? Ma stai bene? Ma tutto ok? Ma prenditi una pastiglia, no? Dunque, raga che... Guarda il fumo. Dunque... Piccola parentesi... Terzo piano. Così, prima non si poteva andare. Prima... No, scusami, ma al secondo... Prima era 2S2. Al secondo vaffanculo, se provi ad andare al secondo piano... E tra l'altro ci stavano nel secondo. Oh, ecco perché. E chi è attivato? No, data. Molto bene. Ah, perché siamo di nuovo al secondo piano. Ah. Alla fine siamo tornati qua. Ah, ci sono due... Erano le due casse forti. Salve, cos'è l'improvviso? Babba mia, pelo, pelo. Pugunque, pararsi di questo gioco è... È OP. Cioè, non ti fa quasi danno. Secondo me non ha una cosa, non ha la difficoltà più alta. Vabbè, probabilmente... Di metà, metà aus, probabilmente ti scioltano male. Ho altre due bombe, quant'è ce n'hai? Sei. Minchia. Ti può scioltare i suoi nemici. Che devo fare adesso? Segui Evelyn. Ha chiuso tutto. Ah, sponami mostri qua, buono. Ciao. Me ne vado. Ah, ne vengono la stanza del vomito. C'è il vomito, non basta. Ah, ma c'è un'erba nel... nel lavandino. Perché l'ascensore si è bloccato. Perfetto. Alan! È vivo? Non c'è più. She. Eve's upstairs. Ah, te l'ha scritto uno con il sangue suo? Non so. Alan? Non andò? Ma quel televisore è dappertutto, incredibile. C'è lo stesso televisore, ovunque. Vabbè, di sopra, quindi... Dove mi inchiavato? Ah, mo' con la porta si è aperta. Quale? Se vedi... Ah, è vero, adesso è blu. Mo' è blu. Così, all'improvviso, magicamente. Aspetta, scusami, ma qua devo fare qualcosa? Ho visto che c'erano i cosi? No. No. Vabbè. Tutta porno. Come se non fosse mai accaduto. E' vero. Vabbè, tipo adesso questa se... Ah! Ma non è qua, è di là. No, ho capito. Ah, perché si blocca là, ok. Che fai hoppe te. Ok, ok. Torna tutto, torna. Però c'è qualcosa qui, allora? No, è solo qui. Assolutamente no. È aperta la porta. Sì. Fatti una porta aperta. Con le scale. Ah, questa è la stanza dove hai trovato Evan. Sì, per te c'ho una cosa sulla mano allucinante. Sì, dovresti mettere un po' di acqua ossigenata, non c'è rotto. Questa è la tv. No, ma aspettavo una cosa alla Inception. Che cosa? Che vedevi lei che vedeva la tv. Sì, lei che vedeva la tv e fa guarda, devi ricordare. Buongiorno. Cosa ho fatto ad arrivare qui, è vero? Dove è Evie? Non c'è controllo. Sembra i trattamenti, si è deteriorato. Vuole un trattamento? No, è una buona cosa che abbiamo già morto. Non ti diciamo. Si tratta di te. No, non è mocciosa. La little bitch non è mocciosa. Evie, no, Evie, Evie. Alan, mi sento. No, Evie. No, sta diventando catramusso. Quindi... Scusa, se mandiamo catramusso alla crusca, ce lo accettano come termine nuovo? Sì, come si. L'orologio? Ciao, Alan. L'orologio che dice? Ah, è Pelin. Guarda cosa hai fatto. Oh, oh. No, 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 no. Non catramare pure me. No. Sono tua mamma. Ma prendi gli occhi, dai. Un po' di rispetto per gli anziani. Gli anziani? No, gli anziani. Ti sta per spingere il microfono. Sono succedendo un sacco di cose in questo tempo. Vedi, sempre più esaltanti queste cose. Sono una bella catramata pure io. Si va, si va avanti. Questo è il pc di inizio gioco dove manda il video. Quindi è per quello che le diceva. Non venire! E tu sei venuto, sei andato lo stesso. Giustamente. Che fai? Mara, si stimano la webcam. Ma la mano così tutta nera? Sì, infatti. Questo è il video di inizio. Made in quality. Stay away. E finiva così. Questa è nuova, tutta parte nuova. Have a good life. Have a good life. Vabbè! Non fa una piega. Giustamente lui lo riceve e dice Ah sì, ok. Ciao, è stato bello. Però a me... Oh! Ma sei tu che fai casino? Non lo so. Perché tu sei... Ma mi sa che lo vedremo nella prossima. Sì, lo vedremo nella prossima puntata. Quindi per oggi è tutto. Da Alemas. È il Tarta. Adios. Ciao. 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 Grazie a tutti.